La sua superiorità si riafferma agli anelli. L'agilità si unisce alla saldezza dei muscoli e il tutto compone uno spettacolo che è insieme grazia e potenza. I volteggi al cavallo sono per lui una piacevole preparazione per piroette, non più orizzontali ma verticali per autentici voli. E alla sbarra che Figone si conferma insuperabile, un numero in suo che costituirebbe la grande attrazione di uno dei più famosi circhi equestri. Dopo tante cose riuscita alla perfezione non si direbbe che gli riesca altrettanto perfetta la cerimonia dell'incoronazione.